Un cordiale saluto a tutte le persone che stanno seguendo questi brevi video dedicati alla questione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella a Piacenza. Io sono l'architetto Manrico Bissi, sono il presidente dell'Associazione Culturale Archistorica e, come promesso, vi tengo aggiornati sull'evolversi della situazione. Ricorderete, come abbiamo comunicato in precedenza, che, come associazione, stavamo organizzando nei giorni scorsi un incontro, una sorta di conferenza con dibattito pubblico, dedicata al tema del rischio archeologico legato appunto al sottosuolo di Piazza Cittadella. In questo incontro volevamo proiettare immagini, mappe, cartografie, misure, dati tecnici legati appunto ai reperti che sono venuti in luce nell'arco dell'ultimo secolo, degli ultimi cento anni, sia nella piazza che nelle immediate vicinanze. Questo per chiarire con, diciamo, maggiori dettagli, la presenza dei reperti nel sottosuolo, far comprendere soprattutto alle istituzioni che sotto Piazza Cittadella non c'è solo terra, ma c'è un ricco patrimonio culturale che deve essere tutelato. Per organizzare questo incontro abbiamo ripercorso un luogo dove già negli anni scorsi, nel 2016, avevamo organizzato un evento analogo. Stiamo parlando dell'Auditorium Santa Margherita, gestito dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Ebbene, lì nel 2016 avevamo riunito un folto gruppo di cittadini, di partecipanti, erano presenti gli assessori dell'epoca, giornalisti, le istituzioni locali, il progettista del parcheggio interrato, e nel corso della serata, con un dibattito anche di toni piuttosto vivaci, abbiamo cercato di porre in luce tutte le criticità legate appunto alla presenza dei reperti nel sottosuolo. Visto che in questi ultimi giorni l'interesse per la questione si è notevolmente riacceso, pensavamo di poter organizzare un incontro del tutto analogo a quello precedente sempre nello stesso luogo, quindi nel medesimo auditorium. Abbiamo quindi inoltrato richiesta e ieri, 2 settembre 2024, la Fondazione di Piacenza e Vigevano rispondeva, come potete vedere per iscritto, confermando la disponibilità dell'auditorium. Eravamo naturalmente contenti, abbiamo mandato comunicazione ai giornalisti, alle autorità locali, ai cittadini, invitando quindi a partecipare. Se non che, solo oggi, quindi nell'arco di 24 ore, la stessa Fondazione di Piacenza e Vigevano ha revocato la concessione appena rilasciata. E lo dice molto chiaramente con questa comunicazione per iscritto, dove fondamentalmente che cosa si va a dire? Si va a dire che la nostra richiesta parlava di un incontro a tema culturale, come lo sono appunto i reperti archeologici sotto Piazza Cittadella, ma gli organi della Fondazione non si aspettavano, non avevano inteso sufficientemente che la nostra associazione archistorica, oltre a parlare dei reperti, si dichiarava anche contestualmente contraria al progetto del parcheggio. E lo dicono, lo scrivono testualmente, con riferimento alla richiesta dell'auditorium per la serata del 6 settembre, si fa presente che il taglio dell'iniziativa non era esplicitato nella richiesta che parlava genericamente di un incontro pubblico dedicato alla storia di Piazza Cittadella e al suo substrato archeologico. Invece, successivamente, si recitava nel comunicato stampo che l'associazione culturale archistorica è da sempre contraria allo scavo del parcheggio e si unisce quindi alla vasta opposizione che ormai da mesi sta esprimendo il suo legittimo dissenso. Tutto questo, secondo la Fondazione di Piacenza e Vigevano, configura il nostro evento, quindi la nostra conferenza, come un'iniziativa di carattere politico. Attenzione, un evento di carattere politico e di conseguenza in palese conflitto con l'articolo 4 del regolamento di concessione dell'auditorium. In sostanza ci hanno detto che la concessione rilasciata solo 24 ore prima ci doveva essere revocata perché noi siamo contrari al progetto del parcheggio e questo ci pone in una condizione di schieramento politico. Ecco, è evidente che tutto ciò è paradossale, ai limiti dei racconti, diciamo, più fantasiosi che la fantascienza potrebbe partorire. Cosa c'è di politico nel descrivere la storia dei reperti di Piazza Cittadella? Cosa c'è di politico nell'interrogarsi su cosa c'è sotto la piazza? Cosa c'è di politico nel chiedersi quali problemi si verificheranno nel momento in cui le ruspe e gli scavi del cantiere andranno a intercettare gli strati di epoca romana e medievale? Cosa c'è di politico nel dire che scavare un parcheggio in un'area archeologicamente importante come Piazza Cittadella è un rischio, è un rischio per il nostro patrimonio culturale. Tutto ciò non è politica. Questo è semplicemente un dubbio, un interrogativo che qualsiasi persona di buon senso dovrebbe porsi a maggior ragione quando siede nelle istituzioni che governano la città. Noi non volevamo assolutamente creare un evento di protesta, ma semplicemente un momento di incontro, di dibattito, partendo da una posizione onesta, sincera. Noi come associazione siamo contrari, lo diciamo da anni, e non c'era motivo di nasconderci dietro un dito in questa situazione. Tanto più che nello stesso luogo nell'auditorium Santa Margherita, solo otto anni fa, avevamo organizzato un incontro analogo su temi del tutto identici e all'epoca nessuno aveva ravvisato alcun tipo di conflitto ideologico politico. Credo sia di dominio pubblico a Piacenza che l'attuale presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano è quello stesso ingegnere Roberto Reggi che fu sindaco di Piacenza diversi anni fa quando partì il progetto del parcheggio di Piazza Cittadella. Io non aggiungo altro perché mi piacciono i dati, le informazioni concrete come quelle riguardanti appunto i reperti, non mi piacciono le teorie complottiste, lascio quindi a coloro che stanno guardando questo video qualsiasi considerazione di tipo personale. Posso però confermare che il nostro incontro si farà venerdì 6 settembre alle ore 21 nelle serre di Palazzo Ghizioni Nasalli in via Gregorio X numero 9. Grazie per la vostra attenzione.